salve abbiamo una domanda interessante su una frase famosa che significa ama e fa ciò che vuoi questa è una frase famosissima sapete tutti forse che di sant'agostino è una frase tolta dal suo contesto e che fa un grande effetto oggi si sente ripetere molto a sproposito e fuori contesto perché la parola amore anche è diventata una parola ambigua può significare tante cose anche tutto il contrario dell'amore la ricerca del piacere egoistico anche quello viene chiamato amore non è così sant'agostino per capire questa frase innanzitutto sa bene che esistono due tipi di amore dice che c'è un amore egoistico che arriva fino al disprezzo di dio e c'è l'amore per dio che arriva fino a vincere il proprio egoismo totalmente lo scrive molti posti famosa l'opera la città di dio dove dove dice questo ci sono due tipi di amore quello egoistico di sé che se prende il sopravvento piano piano arriva a disprezzare dio e quello per dio invece che arriva a superare tutti i propri egoismi questa concetto di agostino viene dal vangelo prendiamo questo famoso vangelo c'è uno scriba che chiede a gesù qual è il primo di tutti i comandamenti gesù rispose il primo è ascolta israele il signore nostro dio è l'unico signore amirà il signore tuo dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutta la tua mente con tutta la tua forza il primo precetto dice sant'agostino è l'amore di dio e quest'amore arriva a superare il proprio egoismo infatti c'è il secondo la conseguenza il secondo è questo amerai il tuo prossimo come te stesso non c'è altro comandamento più grande di questi allora ci sono questi due amori sant'agostino si riferisce all'amore di dio quando dice ama e fa ciò che vuoi l'amore di dio che ci permette di amare il prossimo cioè di superare il nostro egoismo e in quale contesto lo dice questo non si dice mai il contesto è stranissimo non è un contesto romantico non è un contesto buonista sta parlando della correzione sta insegnando il cristianesimo ai nuovi battezzati e sta parlando di come si corregge il fratello altro che vi leggo la frase nel suo contesto dice così sant'agostino molte cose possono avvenire che hanno un'apparenza buona ma non procedono dalla radice della carità l'amore di dio anche le spine hanno i fiori alcune cose sembrano aspre e dure ma si fanno per instaurare una disciplina sotto il comando della carità sia che tu taccia tacci per amore sia che tu rimproveri rimprovera per amore sia che tu corregga correggi per amore sia che tu perdoni perdona per amore sia in te la radice dell'amore poiché da questa radice non può procedere se non il bene allora altro che fai quello che ti pare con la scusa di un sentimento qui si tratta di altro della carità che è capace persino di correggere il fratello di portarne la reazione negativa la carità che ci dà una libertà enorme di fare la volontà di dio in tutte le circostanze questo è l'amore di dio che ci permette di superare tutti i nostri egoismi ama e fa ciò che vuoi ti benedica il signore e ti protegga grazie a tutti